Gioacchino Alfano, Amici, Brattici, Chitto, Costa, D'Ambroso, Damiano, Delai, Di Gioia, Fedrica, Ferranti, Ferrara, Giancarlo Giorgetti, Gitti, Guerra, La Marca, Lauricella, Lupi, Manciulli, Marotta, Merlo, Piepoli, Rosato, Sani, Scalfarotto, Sciullian, Scotto, Speranza, Tabacci, Turco, Valeria Valente, Vignali, Villeco Calipari e Vitelli sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 113, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allogato a resoconto della seduta odierna. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Sospendo pertanto la seduta che riprenderà alle ore 10.30 la seduta è sospesa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.